Siamo in chiusura di campagna elettorale, questo tour de force è stato meraviglioso, ho incontrato tanta gente che ha voglia di buona politica, non è vero che non c'è voglia di andare a votare, la gente vuole votare la buona politica, io spero di incarnare la buona politica, spero di riuscire a dare risposte a tutte le persone che hanno creduto in me e in noi come Movimento soprattutto, quindi domenica 31 votate per me, votate Sergio Angrisano, sono candidato nelle liste dei popolari per l'Italia.